Auto d'epoca, protagoniste del quarto raduno Ruote nella Storia, organizzato dall'Automobile Club Molise in collaborazione con il Club AC Storico Molise. Oltre 50 auto d'epoca, che partendo da Piazza Prefittura a Campobasso, sfilano attraverso le strade molisane, con un programma ricco di visite culturali, premi, degustazioni delle eccellenze enogastronomiche locali. Direzione Agnone per una visita al borgo ed ovviamente alla storica fabbrica delle campane Marinelli. Presidente, siamo alla quarta edizione, l'anno scorso è stato un vero successo, ma quest'anno si cambia itinerario? Sì, siamo alla quarta edizione, sono state quattro edizioni, tutte molto belle. Quest'anno sarà ancora di più e in modo ancora più particolare, perché in questi quattro anni abbiamo visitato siti archeologici, abbiamo visitato paesaggi molto belli della nostra regione, insomma le eccellenze della nostra regione. Quest'anno coniughiamo anche l'aspetto artigianare, quest'anno siamo ad Agnone, una cittadina molto bella, dove andremo a visitare questa storica e millenaria fabbrica di campane, che tutto il mondo ci invidi e che noi dobbiamo andare necessariamente a vedere. Presente alla partenza la sindaca Maria Luisa Forte, che vede queste manifestazioni come volano turistico. È bellissima questa mattinata di sole in questa bella piazza con queste bellissime macchine. Sono venuta qui proprio per raccogliere tutte queste persone che da qui partiranno per scoprire altre bellezze del nostro Molise, in particolare l'Alto Molise. È un'occasione importante per far conoscere la nostra città, perché questo è un connubio perfetto tra la passione appunto per le macchine d'epoca, il turismo e la cultura. Mi auguro che la prossima volta Campobasso possa essere proprio la tappa di tutti gli appassionati di macchine d'epoca e poter ospitare qui una carovana, chiamiamola così, di macchine d'epoca. Grazie. Grazie.